Il presidente della regione toscana Enrico Rossi ha stilato il bilancio di 12 mesi di lavoro insieme agli assessori della giunta regionale riuniti nella sede della presidenza di Palazzo Strozzi Sacrati a Firenze. Tra i dati negativi del 2018, ha detto il presidente, episodi come la crisi dello stabilimento Becker di Figline Valdarno, dove a giugno era stato annunciato il licenziamento di 318 operai, o come il terribile incendio di settembre sui monti pisani che ha distrutto 1148 ettari di bosco e 148 ettari di terreni coltivati. L'anno però si è concluso anche con il raggiungimento di importanti obiettivi. Le cose che mi vengono prima di tutto in mente sono il fatto che a Piombino siamo riusciti a trovare un nuovo imprenditore che si è impegnato, non era affatto scontato che questo avvenisse, che significa avere salvato una potenza produttiva importantissima in migliaia di posti di lavoro. Poi vedremo e seguiremo le evoluzioni, ma potevamo avere davvero un crollo che invece con Gindal e con l'attrazione di un nuovo imprenditore si è evitato. L'altro punto su cui la regione è stata efficace, a mio parere, è Livorno. Noi abbiamo avuto a Livorno un'alluvione devastante, siamo intervenuti, abbiamo speso, lo abbiamo fatto in tempo rapido, abbiamo soccorso le famiglie anche con soddisfazione da parte delle persone, continueremo a lavorare su questo. Tra i risultati raggiunti nel 2018, il presidente Enrico Rossi, insieme all'assessore alla salute Stefania Saccardi, ha citato anche il successo della campagna di eradicazione dell'epatite C avviata dalla regione. Nel solo 2018 sono stati 3.781 i pazienti affetti da epatite C trattati nei centri specializzati per la cura della patologia nelle tre aziende sanitarie Toscana Centro, Nord, Ovest e Sud e nelle tre aziende ospedaliere universitarie di Careggia, Firenze, Siena e Pisa. Nei prossimi tre anni la previsione è di curare 15.600 pazienti. Noi abbiamo fatto un lavoro importante per l'eradicamento dell'epatite C, anche questo fatto è una buona notizia per tutta la Toscana. L'epatite C in fase avanzata di eradicamento come siamo noi significa che la salute complessiva della nostra regione sta migliorando. Nel suo bilancio di fine anno il presidente della Toscana ha affrontato anche il capitolo delle energie rinnovabili e della geotermia, esprimendo preoccupazione per il blocco degli incentivi e per il decreto del governo a cui, ha detto l'assessore all'ambiente Federica Fratoni, si sono opposte tutte le regioni. Presente il sindaco di Radicondoli Emiliano Bravi in rappresentanza dei comuni geotermici della Toscana. A rischiare, hanno detto presidente e assessore, sono anche molte imprese attive nel territorio della geotermia. Sulla geotermia esprimiamo grande preoccupazione, il comportamento del governo non ci ha convinto, non ci ha ascoltato, addirittura si sente dire che si deve ascoltare i comitati, cosa giusta, ma insieme ai comitati permetto di dire che si deve ascoltare anche le istituzioni, la regione, l'università, tutti quelli che hanno lavorato perché lo sfruttamento dell'energia geotermica che è strategico anche per il futuro della regione potessero dare un contributo e consentire al governo di riattivare nuovamente le agevolazioni che storicamente ci sono sempre state. Se non avremo agevolazioni non ci saranno più investimenti, ci sarà una regressione anche dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista occupazionale. Adesso ci viene promesso che ci sarà un secondo decreto, lo aspettiamo, ma nel frattempo siamo molto preoccupati. Rossi si è soffermato anche sul capitolo delle infrastrutture, esprimendo preoccupazione per lo stallo sul futuro dell'autostrada tirrenica. Sull'ampliamento dell'aeroporto di Firenze, invece, la Giunta regionale ha approvato nell'ultima seduta dell'anno una delibera che, hanno detto il presidente e l'assessore alle infrastrutture Vincenzo Ceccarelli, permetterà di realizzare il nuovo ponte sull'Arno e la nuova bretella senza interferire con il masterplan e di superare le criticità evidenziate dal MIBAC. Penso che questo sia una buona notizia per tutta la regione. Io ho sempre concepito lo sviluppo dell'aeroporto di Pisa e quello di Firenze insieme. Insieme stanno o altrimenti insieme rischiano di inciampare e di regredire. Solo così e solo a condizione di uno sviluppo comune dei due aeroporti è stato possibile diventare elementi di una strategia nazionale aeroportuale dal quale saremmo stati invece esclusi. C'è poi il capitolo del sociale e degli interventi attuati dalla regione nell'arco del 2018 per abbattere povertà ed esclusione sociale che anche in Toscana resistono. Per questo, tra le priorità del nuovo anno, c'è una legge per la lotta alla marginalità e la garanzia di accesso alle cure, salute, istruzioni, alimentazione adeguata e dimora, in altre parole ai diritti essenziali. Siamo preoccupati dal fatto di sapere che ci saranno altre decine di migliaia di persone, migliaia di persone quantomeno in giro, che si aggiungano a quelle già esistenti, anche a causa del decreto sicurezza, che rischiano di non avere cure quando hanno bisogno. Invece le cure servono a loro, ma servono complessivamente anche alla salute della popolazione, a mantenere la salute della popolazione complessiva. Di non avere un tetto, di non avere un piatto caldo, di non avere accesso all'istruzione come purtroppo è accaduto a Lodi, dove c'è voluta una sentenza del TAR. Questa legge fa chiarezza e io penso che è un messaggio forte, non al buonismo, è un messaggio forte a mantenere la Toscana su un piano civile, su un piano di riconoscimento di quei diritti elementari della persona, senza il quale si rischia di più tutti quanti, in termini di sicurezza, in termini di salute, in termini di convivenza, di tensioni che tendono ad accumularsi, di ruolo della criminalità organizzata che interviene sulle persone disperate e cerca di portarle a sé. Il Presidente ha poi annunciato altri provvedimenti che la Regione adotterà nel corso del 2019, sempre in materia di diritti e sociale. Noi abbiamo il super ticket legato al reddito, il 75% della popolazione lo abbiamo reso esente, capisco che sul restante 25% pesi. Intanto cominciamo a togliere per tutti questo balzello che ci serviva per raggiungere gli obiettivi di recupero finanziario dai ticket che ci aveva messo il governo Berlusconi-Tremonti e che poi successivamente non erano mai stati tolti. Sono 18 milioni, non è una cosa di poco conto, ma alla lunga era diventato insostenibile far pagare la digitalizzazione che abbiamo fatto nelle nostre aziende. Tra le priorità della Regione per il 2019 è anche l'informazione locale, con un bando da un milione e mezzo che sarà pronto a gennaio. E ora che cosa deve aspettarsi la Toscana dal nuovo anno? Speriamo che il 2019 sia un anno sereno per tutti, la serenità è fondamentale. Purtroppo vedo addensarsi i nubi, ecco, all'orizzonte, sul piano economico, la recessione mi pare bussa alle porte, la politica mi sembra che si complica ulteriormente. Bisogna fare affidamento alla nostra forza, alla nostra energia, alla nostra voglia di impegnarci. Credo che questo Paese abbia risorse e può avere fiducia in se stesso che potrà cavarsela. Grazie a tutti.